Gli monitoravamo quando entravano dal confine sostanzialmente agricolo e imboccavano la ciclabile, si trovavano subito dietro un nostro veicolo borghese, poi uno davanti, due davanti e a un certo punto venivano bloccati senza poter scappare. Solo in un caso uno dei soggetti ha cercato di prendere un coltello ma è stato subito neutralizzato. Nessuno si è fatto male mai, né i migranti, né il personale o il passere. Utilizzavano la pista ciclopedonale Orlec-Trebiciano sul carso triestino per condurre in Italia attraverso il confine sloveno migranti di provenienza medio orientale. Li accompagnavano a piedi o in macchina. Per questo motivo otto persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione Abisso, condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Gli accertamenti sono iniziati ad aprile, durante delle verifiche sull'utilizzo della pista ciclopedonale per l'approvvigionamento di droga dalla Slovenia. Le fototrappole installate hanno invece rilevato il passaggio di migranti a piedi, praticamente ogni giorno, per un totale di 500 persone circa in 15 giorni. Alla testa dei gruppi, alcune persone che, alla stregua di guide, sembravano condurre i migranti verso l'abitato di Trebiciano per poi ritornare in Slovenia. Un percorso usato anche dalle automobili. Macchine straniere di grossa cilindrata che, una volta fermate, abbiamo visto che ogni volta portavano tra i 5 e i 7 clandestini anche nel bagagliaio, provenienti per lo più dalla Siria, da curdi di etnia turca oppure afghani e pakistani. In circa un mese sono stati arrestati 7 passeur dell'est Europa, di cui 5 cittadini ucraini, sorpresi a trasportare decine di migranti, tra cui anche diversi minori. A inizio giugno è stato arrestato anche un cittadino originario del Pakistan, mentre era in testa un gruppo di 16 persone a piedi di nazionalità nepalese, bengalese e pakistana. Sono stati sequestrati sia i veicoli che i cellulari in uso ai passeur. Durante le indagini è stato accertato che la cifra pagata per il trasporto variava dai 6.000 agli 8.000 euro a testa.